Solo una strumentalizzazione politica sulla sicurezza degli studenti alla vigilia delle elezioni. Arriva la reazione del sindaco di Prato Lapelini, Antonio De Crescentis, sull'esposto presentato alla procura della Repubblica di Sulmona dal Comitato di Decentramento Scolastico, guidato da Saturnino Iacobucci, a proposito del nuovo plesso scolastico da realizzare. Il primo cittadino non usa mezzi termini. Da dieci anni stiamo lavorando su questo progetto della nuova scuola. La prevenzione e la sicurezza dei bambini sono al centro. Se poi c'è qualcuno che su questi temi vuole fare strumentalizzazioni, saranno i cittadini a giudicare, afferma De Crescentis a un datigì. Per il progetto della nuova scuola sono stati stanziati oltre 7 milioni di euro messi a disposizione da una delibera cipe. L'edificio sarà realizzato nell'area dove ora sorge l'ex Itis, una zona di 14 mila metri quadrati, stato di abbandono da tempo. Al posto del vecchio stabile, invece, sarà realizzato un campus scolastico destinato ad ospitare anche altre attività, soprattutto culturali e dedicate alla socializzazione dei giovani.